Il rigidismo è uno degli atteggiamenti da evitare nell'arte dell'educare, perché se noi formiamo delle persone rigide, formiamo delle persone infelici. Che cosa vuole il Signore da noi? Vedete, delle volte nella vita umana, ma anche nella nostra vita religiosa, nel nostro cammino spirituale, la rigidità ha creato chi? Delle persone libere? Delle persone felici? Quindi, a mio modo di pensare, ha creato degli infelici, ha creato delle persone formaliste, ritualistiche. Perché? La rigidità non va d'accordo col piano di Dio, perché Dio ci vuole figli, non soldati. Dio ci vuole persone capaci di dialogare con Lui, di contestarlo anche, ma che alla fine siano libere e felici nel cuore. Non basta dire signor sì, non basta fare le cose perché le dobbiamo fare, non basta rispettare una norma, ma bisogna credere al valore di quella norma. La rigidità, il rigidismo, è qualcosa che appunto uccide la libertà dell'uomo. Quando siamo troppo rigidi è perché siamo in difesa, perché siamo affettivamente complessati. Quando siamo troppo rigidi è perché abbiamo paura e quindi ci vogliamo difendere. Dio ci vuole, lo ripeto, dei figli. Dio ci vuole figli, non ci vuole soldati. Voi trovatemi una persona rigida ma felice. Perché la persona felice è una persona libera, che non vuol dire che fa quello che vuole. Non vuol dire fare quel che mi pare piace, no, 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 no. La rigidità è l'opposto della libertà. La libertà è anche la gioia, la maturità di osservare delle regole, ma non in maniera rigida, ma in maniera aperta, flessibile e convinta. Nella vita non sempre c'è solo il bianco o il nero. Questo almeno personalmente la vita mi sta insegnando. Non è solo tutto bianco o tutto nero. Allora la persona felice è la persona che vive le regole, che vive gli impegni, che vive i comandamenti, che vive i consigli, che vive i condizionamenti in maniera matura, consapevole e capace di essere appunto e di discernere nel proprio cuore. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao! Ciao! Ciao!